In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, vorrei iniziare con questa riflessione, questa breve meditazione, una serie di incontri sulla Messa come sacrificio. Nel passato ho fatto una serie di incontri molto generici per conoscere la Messa in vetu sordo. Adesso vorrei approfondire l'argomento per aiutare tutti i fedeli che mi seguono a partecipare nel modo migliore alla Santa Messa di sempre. Vorrei cominciare con il concetto di sacrificio. Ho detto più volte che la Messa è il sacrificio di Cristo sulla croce. Però intendiamoci su questo termine, sul termine sacrificio. Oggi come oggi, di solito quando si usa questa parola, la si usa per indicare le rinunce, le sofferenze, le fatiche che una persona deve fare per ottenere un risultato. Ma non è questo il significato di sacrificio che è utile per conoscere la Santa Messa. Il sacrificio e il concetto di sacrificio rivolto a Dio è un concetto che è stato quasi completamente dimenticato o perduto nella nostra cultura. Perché viviamo in una società che si è dimenticata di Dio, a cui Dio non interessa. Pertanto anche il sacrificio rivolto a Dio non è una cosa che può interessare. Cerchiamo di approfondire bene questo concetto e partiamo proprio dalle basi più generali. Cioè dall'esigenza del cuore umano. Il sacrificio rivolto a Dio è un'esigenza proprio della natura umana. È nella natura umana esprimere amore, esprimere gratitudine, esprimere affetto, rispetto. Non solo con le parole, dicendo ti voglio bene, dicendo ti ringrazio, ma anche con dei fatti molto concreti nel modo specifico nei confronti di Dio con un culto esterno, cioè visibile, non interiore, ma esterno, con un culto pubblico, con un culto sociale, perché viene coinvolto anche un gruppo di persone, una comunità di persone. Quindi è nell'esigenza proprio del cuore umano esprimere affetto, gratitudine e rispetto in maniera concreta, a volte anche con dei regali, con dei doni. Noi sentiamo l'esigenza di regalare qualcosa alle persone che amiamo, alle persone che stimiamo. E questi doni, questi regali, naturalmente sono proporzionati non solo in base alla mia possibilità, se sono ricco, se sono povero, ecco, non solo in base alle mie possibilità, ma in base anche all'importanza della persona che deve ricevere questo regalo, che deve ricevere questo dono. in base alla gratitudine che io debbo a quella persona, rispetto che io debbo a quella persona, no? E non è neanche detto che questo regalo che io faccio sia poi effettivamente utile alla persona che lo riceve. Può darsi che quella persona non lo usi mai, che non gli sia mai utile. L'importante è che più che alla persona che riceve il regalo, è utile a me, perché l'esigenza di donare è proprio del mio animo, del mio cuore. È più forte l'esigenza di donare che quella di ricevere. Tant'è vero che molti dei regali che facciamo non vengono mai utilizzati e a loro volta poi vengono regalati ad altre persone, ma non importa. Ripeto, è un'esigenza del cuore dell'uomo. Ricordo questo proposito e ciò che avvenne nel 1932, durante il periodo natalizio, quando un gruppo di persone venne accorto in Vaticano, in udienza generale, in udienza presso il Papa Pio XI. Il Papa vide, in mezzo a questo gruppo, un bambino, si avvicinò al bambino, lo benedisse e lo accarezzò. Pensate, un atto straordinario per quei tempi, i Papi erano delle figure anche proprio inaccessibili alla gente comune. Il bambino si sentì talmente pieno di gioia e di riconoscenza che, avendo tra le mani un giocattolo, volle a tutti i costi regalarglielo. Tant'è che il Papa non poteva fare a meno che riceverlo e ringraziare a sua volta. Naturalmente quel giocattolo non poteva essere utile al Sommo Contefice. Lo mise, sì, sulla scrivania per alcuni giorni in mezzo ad altre cose molto più importanti e anche molto più preziose. Lo tenne comunque, come ricordo, per alcuni giorni sulla scrivania. Questo per dire il dono che dobbiamo fare noi al Signore. Il sacrificio verso Dio è un dono, è un dono concreto, è il dono di un culto pubblico, sociale, esteriore, proporzionato alle nostre possibilità, proporzionato all'importanza della persona a cui facciamo questo dono, che deve esprimere ciò che c'è nel nostro cuore. E con questo concetto molto generico di dono, ecco, termino qui la mia prima riflessione. Ce ne saranno altre, prima di arrivare a conoscere meglio la Santa Messa come sacrificio di Cristo sulla croce. Sia lodato Gesù Cristo, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Avanti con Maria.